Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del Tg6. Apriamo il nostro telegiornale parlando di politica perché i giochi sono praticamente fatti in vista del ballottaggio di domenica prossima che chiude la tornata elettorale in Abruzzo. Sono quattro i comuni che andranno al voto intanto e caccia proprio al voto degli indecisi. Vediamo il punto nel servizio di Raffredo Primante. Domenica si torna alle urne per il turno di ballottaggio che chiude le amministrative 2016. Nella nostra regione sono quattro i comuni che devono ancora eleggere il proprio primo cittadino, Roseto, Vasto, Sulmona e Lanciano. Queste ultime due città sono quelle dove i toni della polemica politica sono stati più accesi e dove apparentemente alleanze hanno fatto discutere. Nella città di Ovidio la candidata di Forza Italia Elisabetta Bianchi si è apparentata con Bruno Di Masci, espressione di una coalizione di centrosinistra composta da otto civiche ma appoggiata, seppure senza il simbolo ufficiale, dal Partito Democratico. Di Masci dovrà vedersela con la coalizione civica guidata da Anna Maria Casini, diretta emanazione dell'assessore regionale Andrea Gerosolimo. L'accordo tra la Bianchi e Di Masci caldeggiato dalla senatrice di Forza Italia Paola Pelino ha creato una forte spaccatura all'interno del partito di Berlusconi con il capogruppo forzista Sospiri e i consiglieri regionali Gatti e Febbo che hanno parlato di un apparentamento contro Natura. Altra piazza calda, come detto Lanciano, in Frentania non sono mancate le polemiche per la scelta di Enrico D'Amico, candidato del centrodestra, di apparentarsi con Tonia Paolucci che nelle sue fila schiera oltre a tre civiche anche l'estrema destra neofascista di Casa Pound. D'Amico così lancia la sfida al sindaco uscente di centrosinistra Mario Pupillo in vantaggio al primo turno. Se dovesse vincere D'Amico in consiglio entrerà anche il responsabile cittadino di Casa Pound, Nico Barone, da qui sono nate le polemiche sollevate soprattutto dai parlamentari del centrosinistra abruzzese che hanno inviato anche un appello ai presidenti di Camera e Senato affinché stigmatizzino l'alleanza parlando di uno schiaffo alla memoria in una città insignita della medaglia d'oro al valore militare. Nessun apparentamento invece al roseto degli Abruzzi dove il candidato sindaco uscente di centrodestra Ennio Pavone sfiderà l'antagonista del centrosinistra Sabatino di Girolamo. Quest'ultimo però potrà contare sull'appoggio della coalizione civica Hashtag Amoroseto di Rosaria Ciancaione. Partita apertissima a Roseto così come a Vasto, anche qui nessun apparentamento per Massimo Desiati, candidato di centrodestra, e Francesco Menna, candidato del centrosinistra. Quest'ultimo, dopo il tentativo fallito di accordo con il Movimento 5 Stelle di Ludovica Ceri, a cui era stata afferta la presidenza del Consiglio Comunale, ha incassato il sostegno del candidato sindaco delle liste di democrazia cristiana e Vasto la mossa giusta, Massimiliano Montemurro. Domenica si vota in un'unica giornata dalle 7 alle 23. A partire dalle 22.50, TV6 seguirà in diretta lo scrutinio con collegamenti dai quattro comuni in cui si sceglierà il nuovo sindaco. Ed è stato presentato oggi a Pescara dall'assessore Silvio Paolucci il piano sanitario regionale per il biennio 2016-2018. Assessore Paolucci, piano sanitario regionale 2016-2018, quali le novità più importanti? Intanto è un atto importante perché, come prevede la legge, nel momento in cui una regione vuole uscire dal piano di rientro, ma soprattutto dal commissariamento, deve presentare un piano di riqualificazione che è quello che stiamo facendo. L'ultimo atto è quello conclusivo, legge una realtà nella quale la regione Abruzzo per la prima volta è adempiente sui livelli essenziali di assistenza e quindi si proietta verso nuove sfide e nuovi obiettivi. Elevare la qualità dell'offerta, anche concentrando l'ospedaliera, investire molto sul territorio. Allo stesso tempo, dare una risposta ai tanti fragili, ai tanti non asufficienti, ai tanti anziani, ai tanti cronici che debbono andare in ospedale invece potrebbe avere quel servizio sotto casa, in qualche caso anche dentro casa. Questo dice il piano. Quanto riguarda proprio l'uscita dal commissariamento, quali novità? Abbiamo fatto tutto, vi erano tre ultime prescrizioni nel tavolo del 19 di aprile, abbiamo soddisfatto tutte e tre le richieste, per cui il governo davvero adesso è libero di scegliere quando vuole, se portare e quando portare la delibera in Consiglio dei Ministri per la fuoriuscita. Resta poi la problematica di alcuni ospedali delle aree interne che sono stati di fatto ridimensionati? Ma nessuno, perché tutte le strutture delle aree interne, nessuno è stato chiuso, anzi al contrario, si sta investendo molto sulla residenzialità territoriale, cioè proprio su quegli aspetti che riguardano le prestazioni per i cronici, che sono quelli prevalenti appunto delle aree interne. Inoltre abbiamo investito su una rete di emergenza urgenza più diffusa, con postazioni del 118 e quindi delle ambulanze che sono in grado di dare, in tempi migliori, risposte più adeguate. E ora parliamo di ambiente e della problematica riguardante gli inceneritori nella nostra regione, perché dopo le polemiche delle scorse settimane è tornato il sereno tra il sottosegretario di giunta Mario Mazzocca ed il direttore dell'Arta Mario Amicone. Chiarimenti in Commissione Vigilanza della Regione Abruzzo sul malinteso nato intorno alla possibilità o meno di realizzare inceneritori in Abruzzo, che ha provocato un incidente diplomatico tra il sottosegretario dell'Ambiente Mario Mazzocca e Mario Amicone, direttore dell'Arta, l'Agenzia regionale di tutela ambientale. L'Arta aveva infatti espresso un parere di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, il programma con il quale il Ministero prevede la realizzazione di un impianto rifiuti anche in Abruzzo. Un parere che ha mandato su tutte le furie le associazioni ambientaliste, ma anche il sottosegretario Mazzocca, che ha ricordato che l'Arta ha espresso un parere al Ministero dell'Ambiente che non tiene affatto in considerazione la linea politica della Regione Abruzzo in materia di rifiuti, ovvero la sua assoluta contrarietà alla realizzazione di inceneritori. Ed essendo un'Agenzia regionale, l'Arta dovrebbe agire in nome per conto della stessa Regione. Mazzocca e Miconi si sono ritrovati così uno davanti all'altro in Commissione Vigilanza e il direttore Arta ha ribadito a sua difesa che si è trattato solo di un parere tecnico. Il parere dell'Arta è un parere tecnico, non è un parere politico. Le direttive regionali non si conoscevano, siamo da conoscenza in questi giorni dopo di questo parere. L'abbiamo fatto solo a base del piano regionale di rifiuti in vigore, sui dati che il Ministero ci ha mandato, che sono dati coerenti col piano regionale in vigore. Quindi sul piano tecnico non c'è nulla da obiettare, su quella questione politica, ma la questione che va partecipata e va portata a conoscenza. L'Arta dichiarata è che, premesso che gli impatti ambientali su qualsiasi struttura inceneratoria o di scala che ci stanno sempre, non si è pronunciata in modo particolare, dicendo che non è possibile fare un esame sull'impatto ambientale perché non esiste una localizzazione. Era un parere di massima sui dati in possesso del Ministero, su una quantità di rifiuti prodotti, su quelli che vanno in tescare, su quelli che vanno riciclati. Mazzocca ha preso per buone le giustificazioni del direttore, ha ribadito la contrarietà messa nera su bianco in bendue delibere della regione Abruzzo, all'ipotesi inceneritori. Ha però annunciato che si terranno incontri tra ente regione e Arta. Per il consigliere di Forza Italia Mauro Febbo, presidente della Commissione Vigilanza, l'accaduto dimostra, a parole sue, che la riforma burocratica della macchina amministrativa, che doveva rendere l'Abruzzo facile e veloce, dimostra la prova dei fatti tutta la sua pochezza, dovendosi riscontrare che la mano destra, amicone, non sa cosa fa la mano sinistra, ovvero il sottosegretario Mazzocca. Servizio di Filippo Tronca. Noi ora andiamo invece con Francesca Romana Testi a Francavilla al mare, perché a dieci giorni dalle elezioni, questa mattina, il sindaco rieletto di Francavilla, Antonio Luciani, ha presentato la nuova giunta tra nuovi ingressi e conferme di assessori uscenti. Francavilla al mare ufficializza i nomi dei componenti della nuova giunta e il sindaco, per il suo secondo mandato consecutivo, annuncia di aver sofferto l'attesa, perché tante sono le cose da fare e dunque tutti subito a lavoro. La giunta è stata formata a tempo di record, perché ieri sera alle 18 c'è stata la proclamazione dei consiglieri, questa mattina siamo già qui a presentare la giunta, quindi in perfetto stile Luciani, se mi passate il termine, quindi con molta velocità. In sostanza abbiamo dato rappresentanza a tutte le liste che si sono candidate con me e abbiamo scelto un criterio legato ai voti ottenuti. Mi sembrava giusto, perché con il successo elettorale che abbiamo avuto la città meritava questo. A comporre la giunta sono Francesca Buttari, classe 1977, nominata vice sindaco e con deleghe alle politiche sociali, giovanili, comunitarie, istruzione, accoglienza e pace. Rocco Libertini, classe 1966, si occuperà di bilancio e programmazione, società partecipate, personale, innovazione tecnologica, sport e tempo libero. Davide Campli, classe 1972, al quale sono state consegnate deleghe all'urbanistica, contenzioso, patrimonio, statuto e regolamenti comunali. Williams Marinelli, classe 1970, si occuperà di ambiente ed ecologia, efficientamento energetico e verde pubblico. Infine Sandra Ferri, classe 1968, alla quale spetterà il demanio, il SUAP, sportello unico attività produttive e il commercio. E parliamo ora di occupazione, nuova proroga per la chiusura dell'avvertenza Brioni. In discussione resta il futuro di 70 lavoratori in mobilità volontaria. Il prossimo incontro tra le parti è previsto per fine luglio. Soddisfazione intanto è stata espressa dalla CISL per la collaborazione dimostrata dai lavoratori. Mesi di trattative per salvare il posto di lavoro a più di 400 lavoratori della storica azienda di Penne. La Brioni, dopo aver annunciato i suberi sul personale, dà via un lungo tavolo di trattative con i sindacati che provano a scongiurare la perdita di posti di lavoro, con rimodulazione degli orari, internalizzazione di risorse e offrendo uno scivolo di più di 30 mila euro, azioni che riducono sensibilmente il numero dei lavoratori a rischio. Le più importanti sicuramente sono state quelle del 15 aprile dove i lavoratori chiamati ad approvare l'accordo del 4 aprile hanno risposto in massa e il 90% di loro hanno approvato l'accordo. Dopodiché ci sono state varie tappe perché abbiamo iniziato le varie conciliazioni per la riduzione d'orario da 40 a 32, da 36 a 32 e da 20 a 16 e dopo c'è stata il 13 giugno una votazione sul nuovo orario di lavoro dove il 90% dei lavoratori ha partecipato al voto e ha scelto il nuovo orario di lavoro per il proseguo della loro attività lavorativa. Resta in piedi ancora il nodo per 70 lavoratori che si trovano in mobilità volontaria e dopo varie proroghe e incontri al mese continuano a non avere certezza sul proprio futuro. Io volevo dire che ringraziavo i lavoratori perché solo grazie a loro si è ottenuto questo risultato e abbiamo, fino adesso, scongiurato la mobilità forzata, quella prevista con la 223 del 91. E' esclusivo merito dei lavoratori perché hanno capito che attraverso la riduzione d'orario, attraverso l'accordo di flessibilità, si poteva evitare questa situazione. L'ultima proroga prevista avrà scadenza per fine luglio e tra le carte in mano per risolvere l'avvertenza ci sono ancora gli ammortizzatori sociali ad oggi mai utilizzati. Torneremo al Ministero alla fine della volontaria e vediamo quali strumenti si possono mettere in campo ancora per quanto riguarda la gestione del numero che sarà alla fine della procedura della mobilità volontaria. E nel prossimo servizio parliamo dell'Open Day Formazione e Lavoro. L'80% dei giovani che vi partecipano ottengono subito un contratto di lavoro. 60.000 posti di lavoro inoccupati a causa di carenza di competenze su tutto il territorio nazionale. Nel dettaglio il Cresa rende noto che nel primo trimestre del 2016 il sistema manifatturiero abruzzese, specialmente l'Automotive, manifesta importanti segnali di consolidamento. E proprio con questi dati la Camera di Commercio di Chieti ospita l'Open Day dell'ITS Sistema Meccanica. L'Open Day di questo ITS è sicuramente il momento di lancio di questo corso che è un grande successo perché rappresenta un caso di qualità in Italia per capacità di portare immediatamente all'occupazione che ci partecipa. È un modello estremamente interessante che è di rapporto scuola-lavoro, di concretezza quindi della formazione che finalmente è arrivato anche all'interno delle scuole superiori con l'alternanza scuola-lavoro. Un'occasione per presentare gli importanti risultati raggiunti in un corso concluso sia ad ottobre dove 25 giovani attraverso mille ore di attività in aula e 800 all'interno delle aziende hanno maturato competenze specifiche e ottenuto anche occupazione. Oltre alle competenze di base che dà la scuola secondaria superiore, l'ITS di Lanciano fornisce quelle soft skills come la capacità di lavorare in gruppo, metodologie di problem solving, sistemi di produzione strutturati che costituiscono oggi la chiave delle organizzazioni delle moderne imprese nel settore dell'automotive. E quindi queste sono le caratteristiche che vengono insegnate ai ragazzi attraverso docenti aziendali. Parlando di sbocchi di lavoro, voi avete fatto mille ore in aula, 800 all'interno dell'azienda e alla conclusione di questo percorso che è successo? Alla conclusione di questo percorso sono stato assunto a tempo determinato per un anno all'interno dell'ufficio acquisti della Renzo Manufacturing Italia. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Il giardino dei Cedri nello storico palazzo della provincia di Teramo è stato intitolato al leader dei radicali italiani Marco Pannella, sepolto poche settimane fa nel capoluogo a Prudino. Intanto Marco ci sarà in quanto anche la città di Teramo lo farà stare, lo farà esistere. Un giardino intitolato alla memoria di Marco Pannella è il giardino dei Cedri annesso al palazzo della provincia di Via Miglia, Teramo, riaperto alla città proprio con l'intitolazione al leader dei radicali. Marco è qui, come direbbe lui non me ne sono mai it, non me ne sono mai andato, sono qui e perché le sue iniziative e le sue lotte sono in corso. Si tratta di uno spazio verde realizzato nel 1888 insieme alla scuola normale femminile su progetto di Gaetano Grugnola. Uno spazio verde dalle peculiari caratteristiche arbore e progettuali che d'ora in poi potrà essere utilizzato dai cittadini e dalle associazioni. È uno spazio pubblico che viene riconsegnato alla collettività, cioè si riapre alla città di Teramo come Marco Pannella si apriva alla società italiana. Qualche istante fa poi ho scoperto e con gran piacere che lo zio di Marco Pannella, Giacinto Pannella aveva realizzato la prima guida illustrata di questo giardino, quindi c'è un filo rosso di continuità storica ideale e istituzionale che viene in qualche modo valorizzato. Cinema d'autore e intrattenimento, questo il mix scelto per la 43esima edizione dei premi Flaiano per la parte riservata al cinema. Si parte con la proiezione il 23 giugno, mentre la serata finale per la consegna dei premi ci sarà il 3 luglio nella splendida cornice del Teatro d'Annunzio di Pescara. Cartellone di primo piano per la 43esima edizione dei premi Flaiano, anche quest'anno il grande cinema si trasferisce in riva all'Adriatico, con le proiezioni al Multiplex Arca a partire dal 23 giugno e fino alla fine del mese, che in un crescendo accompagneranno verso la serata finale del 3 di luglio all'Anfiteatro d'Annunzio di Pescara, quando ci sarà la consegna dei premi. Light Motif di quest'anno, offrire al pubblico un mix accattivante di intrattenimento e cultura. Sono 41 film, quasi tutti provenienti da festival, premiati ai festival. La preapertura sarà con il Condominio dei cuori in Franti, che è un bellissimo film francese. L'apertura vera e propria sarà con Pericle in Nero, che ha avuto un grande successo al Festival di Cannes, e poi in sala con la presenza del Stefano Mordini, che è il regista, e Riccardo Scamarcio, che non è solo il protagonista ma anche il coproduttore del film. Scamarcio, saranno presenti tutte e due a Pescara, quindi chiaramente c'è anche un po' di glamour in questa prima fase, poi aspettando ovviamente i premiati. Come al solito, letteratura, cinema, teatro e televisione, con dei premiati che abbiamo individuato, ci hanno già dato il loro consenso, ma ovviamente vi dovremmo dire tra una settimana e dieci giorni. E noi restiamo a Pescara, dove è nata, su iniziativa della parrocchia Santi Angeli Custodi e della diocesi Pescara Penne, una casa per i papà separati, che hanno perso la casa a causa della separazione da mogli e figli. Accogliere temporaneamente i papà separati che vivono senza una fissa dimora è questa la finalità della struttura di co-housing realizzata nella parrocchia Santi Angeli Custodi, situata in via Sacco a Pescara, è visitata dall'assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco che ha promesso anche che la Regione, attraverso i progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, mettere in campo risorse per potenziare il centro. È un progetto corale che va ad aiutare una fascia precisa e debole in questo momento e fragile e certamente, come dire, la Regione con i progetti che farà, soprattutto con un progetto sulle famiglie dell'FSE, potrà metterà a bando dei fondi anche per potenziarlo. L'iniziativa è stata voluta dall'arcivescovo di Pescara Penne, Tommaso Valentinetti, e vive grazie al sostegno della parrocchia Santi Angeli Custodi di Don Giuseppe Scarpone e con la collaborazione della Caritas di Don Marco Pagnello. Sono venuti alcuni papà con questa sofferenza di separazione e sono venuto a chiedere ospitalità per la prima sera. Non sapevano dove andare, in quanto il giudice aveva assegnato la casa alla moglie e ai figli. Da lì, quando sono riuscito a creare questo progetto, ho pensato subito a loro. Questa casa si prefigge intanto di farsi compagna di viaggio per chi subisce l'evento separazione, per il papà che non può più incontrare i figli in un luogo sicuro. Allora, così come in tante altre Caritas in Italia, abbiamo cercato di dare una risposta a questo bisogno. E ora parliamo di Natura, perché è stato firmato questa mattina un protocollo d'intesa fra l'assessore ai parchi, le asle regionali e il parco Gran Sasso-Monti della Laga per l'istituzione di un osservatorio faunistico regionale. Assessore Di Matteo, qual è l'importanza di questo protocollo che firmerete questa mattina e che coinvolge le asle regionali e il parco Gran Sasso-Monti della Laga? Questa è un'iniziativa fondamentale perché porterà a un osservatorio per quanto riguarda l'abbattimento degli ungulati che diventa oggi un problema serio e che dovrà essere affrontato in maniera scientifica e in maniera tecnicamente adeguata per far sì che non ci siano ancora altri conflitti su questo argomento. Dobbiamo dire che il problema più serio ce l'ha la zona del parco del Gran Sasso per cui i parchi hanno ritenuto di indicare come capofila il parco del Gran Sasso ma tutti i parchi sono coinvolti in questa iniziativa. Importante questa sinergia fra i varienti? È molto importante, abbiamo coinvolto pure lo zoo profilattico perché tutti insieme possiamo affrontare questo problema in maniera adeguata e in maniera per rasserenare il clima che c'è rispetto a questo problema. Cambiamo ancora argomento, il consigliere comunale della lista Teodoro per Pescara Massimiliano Pignoni ha scritto questa mattina una lettera al presidente del Delfino Pescara Daniele Sebastiani per chiedere alla società Bianca Azzurra di mettere in vendita in vista della prossima stagione un certo numero di abbonamenti con prezzi ridotti per i cittadini meno abbienti. Voi sapete il mio taglio politico qual è da sempre, da quando faccio politica presso il comune di Pescara e tra i cittadini è quello di aiutare le persone bisognose e mi sono sentito in qualità di consigliere comunale di scrivere al presidente Sebastiani per chiedere la possibilità di avere un numero ovviamente limitato di abbonamenti grazie da destinare alle persone bisognose perché oggi voglio ricordare a tutti i telespettatori e anche a lei che andare allo stadio è diventato ovviamente oneroso soprattutto per una famiglia e non è possibile assistere che bambini o ragazzi più fortunati possano assistere alle prestazioni della squadra e altri invece che hanno i genitori disoccupati devono stare praticamente fuori ai cancelli a sentire le grida e gli urli di chi invece si sta divertendo per cui sarebbe un buon gesto da parte del presidente Sebastiani sono sicuro che accoglierà con favore questa iniziativa e che nei prossimi giorni come il suo stile dà delle risposte positive a queste persone meno ambienti Hai parlato di abbonamenti gratuiti o comunque a prezzi molto molto bassi? Sì sappiamo che le società del cascio sono società per azioni per cui ovviamente se non si potesse fare la prima ipotesi cioè quella di avere degli abbonamenti gratuiti almeno di averli con dei prezzi simbolici che possono essere usufruiti appunto da queste persone il cui reddito è zero Domani nella splendida cornice della fortezza di Civitella del Tronto si terrà il congresso prova d'orchestra un incontro scientifico culturale unico nel suo genere che prova ad uscire fuori dai tradizionali canoni tecnici dei convegni medici Perché prova d'orchestra? Un titolo insolito per un congresso insolito che intende tra le altre cose promuovere l'idea che la multidisciplinarietà scientifica nella definizione della diagnosi e della cura della malattia sia decisamente un approccio migliore rispetto alla cosiddetta medicina d'organo in cui ci si limita a curare il sintomo o l'organo malato come se fosse indipendente dal resto del corpo e dall'ambiente Alla discussione scientifica congressuale i giovani cardiologi delle Asla Bruzzesi proporranno otto casi clinici giunti realmente alla loro osservazione Proporranno questi casi clinici un consesso di valore nazionale e internazionale valuteranno le conclusioni e le scelte terapeutiche o quelle anche in itinere per suggerire quali possibilità ci sono per scegliere la terapia migliore per questi pazienti Quindi si tratta non di simulazioni ma si tratta di casi reali perché tutti i convegni devono avere la funzione fondamentale di far migliorare la qualità di cure dei nostri pazienti Il presidente del convegno è uno dei più grandi cardiologi europei e mondiali e che mi onora della sua amicizia e che è molto felice di venire a Teramo dove è venuto già altre due volte e quindi di per sé è l'unico che farà una lezione magistrale e dà lustro al convegno stesso e poi altri signi cardiologi non solo faranno parte del panel ma faranno le lezioni storiche sulla storia dei Borboni e sul ruolo di Civitella in questa fase storica e quindi credo che la storia e il passato non possono essere dimenticati in una valutazione globale della nostra realtà E dopo le polemiche per lo stop al trofeo Matteotti deciso dagli organizzatori noi abbiamo ascoltato oltre al patron della manifestazione Renato Ricci anche l'assessore allo sport del comune di Pescara Giuliano Diodati Non ci sono stati i presupposti per affrontare questo 69esimo trofeo Matteotti perché non potevo io garantire al 100% la spesa e quindi non ho avuto nessun colloquio positivo da parte delle istituzioni punto io non ho forzato nessuno perché il trofeo Matteotti non deve forzare a me mi è costato non mi è costato a livello economico ma mi è costato a livello diciamo di persona di sentimento Noi anche siamo rimasti dispiaciuti di questo annuncio del patron Ricci anche perché gli ultimi incontri che abbiamo fatto lui non aveva fatto assolutamente trasferire un'intenzione del genere di noi purtroppo non per la situazione di predissesto del comune non abbiamo la possibilità di erogare contributi questo ci dispiace molto voglio dire noi da parte nostra siamo sempre stati vicini al patron Ricci io in ogni caso voglio dire l'ho sentito fino a qualche settimana fa sapevamo che da parte del patron c'era la volontà di coinvolgere un po' di imprenditori per sponsorizzare l'evento evidentemente questo non è riuscito ma per noi è un grande dispiacere insomma noi in ogni caso io nel giro di qualche giorno mi sentirò con Ricci per cercare di capire bene quali sono i motivi dell'annullamento di questa gara ripeto noi siamo assolutamente a disposizione se ci si chiede supporto logistico siamo pronti a supportarla in tutte le maniere possibili contributi non siamo in grado di poterne garantire dopo il ciclismo siamo al calcio perché in casa Pescara impazza il Totola Padula richieste che arrivano un po' da tutta Europa per l'attaccante pescarese autore la scorsa stagione di 30 reti la Juventus sembra però in vantaggio sulle dirette concorrenti vediamo Gianluca la Padula più vicino alla Juventus dal Sassuolo anche se il Napoli ha l'accordo economico con lo staff del giocatore ma nelle ultime ore si è fatto pressante l'assalto della vecchia signora all'attaccante nativo proprio di Torino il bomber biancazzurro si gode le meritate vacanze ma i suoi procuratori sono più che mai concentrati sul futuro del loro assistito i telefoni sono bollenti su Mr. 30 gol si sono concentrate le attenzioni anche del Milan che ha fatto un sondaggio resta anche l'interessamento del Genoa ma la Juventus sembra aver messo la freccia anche perché se da una parte la società bianconera è orientata a mettere sul piatto della bilancia qualche euro in meno dall'altra sono pronti a lasciare per un anno in riva all'Adriatico i bianconeri due giocatori importanti per il Pescara quali Mandragora e probabilmente anche il portiere Leali per Gianluca Caprari in Piemonte invece sembra già tutto deciso il giocatore andrebbe a Torino per essere poi girato all'Empoli così come promesso sulla carta però una diretta concorrente del Pescara nella corsa salvezza sul fronte arrivi si punta ad un sostituto forte in attacco per il dopo la padura si parla di due attaccanti di cui uno esperto e un altro più giovane Gilardino sarebbe l'attaccante che potrebbe fare al caso della formazione adriatica e poi ci sono i nomi di Trotta Monachello e Falcinelli per la difesa piace Aieti nazionale albanese e anche il giovane scuola Inter Biraghi che ha giocato nell'ultima stagione con il Granada nella Liga Spagnola contribuendo alla salvezza degli iberici Noi ora parliamo del Lanciano perché il mercato della formazione frentana ruota attorno alla cessione di Federico Di Francesco e anche in questo caso come per la Padula Di Francesco sarebbe molto vicino alla vecchia signora l'attaccante abruzzese autore di un ottimo torneo quello scorso con la Virtus Lanciano nonostante la retrocessione dei rossoneri e dunque vicino al passaggio alla formazione bianconera il figlio d'arte rappresenta il pezzo pregiato del mercato lancianese e permetterebbe alla società di incassare soldi freschi da reinvestire poi nel mercato Di Francesco una volta in Piemonte verrebbe poi girato in prestito al Bologna e siamo ora alla Lega Pro perché in casa Teramo entro la settimana arriveranno i primi rinforzi si guarda soprattutto al reparto avanzato ed il direttore sportivo Fabio Lupo ha anche evocato un nome non proprio nuovo per i tifosi bianco-rossi si tratta di Giuseppe Gambino quest'anno che è l'ultima stagione in forza al Monopoli Jacopo Forcella il reparto avanzato lei ha fatto obiettivamente dei nomi che sono già usciti fuori Guidone ha parlato anche di Croce ha parlato anche di un giocatore che è stato qui a Teramo Giuseppe Gambino sì Peppe Gambino l'ho citato perché può rappresentare quella che è una delle tipologie di giocatore che andremo a cercare sul mercato cioè un giocatore che può venire anche da una serie D che può avere delle grandi motivazioni indipendentemente dall'età questo come tipologia di giocatore poi i nomi che hai fatto giustamente tu sono nomi che ci possono stare perché sono nomi di giocatori dei quali abbiamo constatato in prima persona il valore ma non sono gli unici lavoriamo anche su altri obiettivi proprio per non farci trovare impreparati di fronte ad eventuali rifiuti di nieghi oppure richieste spropositate però Gambino non verrà? No non credo per una questione forse anche legata a un fatto così di età magari cerchiamo anche altrimenti col reparto offensivo cercheremo anche di ricreare anche qualche scommessa però non è che si possa dire no a priori al 15 di giugno può essere magari in questo momento qui può essere un nome un pochettino defilato e fra 20 giorni diventare un nome importante siamo ripeto in una fase iniziale del mercato tutti i nomi possono essere corretti e tutti possono essere sbagliati è proprio tutto per la prima edizione del TG6 vi ricordo la seconda questa sera alle 19 grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata grazie per aver guardato